Vi avevo promesso che saremmo tornati con una sfida con protagonista della Serie A e oggi lo facciamo ma mettendogli contro tante vecchie conoscenze perché andiamo con l'All Star Turca della Super League dove troviamo Mertens, Amsic, Torreira e soprattutto Zaniolo oltre al caro vecchio Muslera Sarà una sfida apparentemente alla portata della nostra Serie A All Stars ma potrebbe riservare anche qualche sorpresa attenzione ai turchi per cui andiamo a preparare la partita come sempre e confermando peraltro anche il recente set di regole e impostazioni che devo dire ha riservato qualche bella gioia nella sfida Messi-CR7 perché questa modalità competitiva sembra offrire più di qualche spunto per rendere le partite anche un po' più imprevedibili perché è una cosa e Tramso Spore eccoci ovviamente tifiamo sempre la Serie A ma chissà quindi competitiva sì difficoltà battagliocatore sì e difficoltà leggenda quindi si va direttamente e attenzione perché se CR7 mi ha quasi battuto la Ligan qui potrebbe esserci qualche sorpresa inaspettata poi ci sarebbe anche la selezione portoghese che è tanta roba ma quella la vediamo la prossima volta magari in una sfida iberica con la Liga che potrebbe anche lì poi ragazzi ovviamente Violetto arriverà il campionatone tra tutte quante abbiate pazienza ci facciamo qualche altra partita e poi le mettiamo tutte una contro l'altra e vediamo cosa ne esce iniziate a pensare ai pronostici a riguardo chi potrebbe vincere secondo voi poi li vedete se riusciamo a a vedere le squadre giocare un po' più in profondità adesso che le prime due partite no qui la Ligan contro la Saudi League invece l'abbiamo visto giocare un po' addirittura io non so perché ma mi sento che vince vince il cappiato turco oggi questo va con sospetto con un Mertens è stato di grazia quanto manca Mertens non ha i napoletani credo perché il cappiato che stanno a fa quanto come la tiene comunque schillano con la cattiveria Torreira la TL Zaniolo la cosa assurda è che con la competitiva non tirano mai cioè è uno skilling feroce ma privo di voglia di andare in fondo in modalità calcetto con i colleghi cioè dai un po' stesso palla peraltro della squadra turca però i valori tecnici sono infinitamente infinitamente più elevati quelli della serie A infatti è bastato un tiro in porta però Zeman per diciamo mette il primo chiodo su Abara perché qua la squadra della Super League fa fatica fa fatica un po' mobile assist ma ragazzi è un'emozione rara devo dire però attenzione però attenzione perché la squadra secondo me ha il suo perché Zaniolo completamente in balia delle emozioni della nostalgia dei ricordi della serie A che ormai tanto parentesi così pur parli visto che abbiamo avuto poche occasioni di farlo io sono curiosissimo di vedere che piega prenderà la carriera di Zaniolo quanto non mi sia mai stato particolarmente simpatico però da con nazionale sono curioso non credo che rimarrà chissà quanto al 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 ma sicuramente almeno un anno se lo farà poi chissà dove potrebbe finire forse in premier oh era bellissima la palla ok incredibile come Ozyman nonostante l'overall non altissimo che l'ho messo in rappresentanza del Napoli che qui a FIFA è veramente trattato in maniera immonda come overall nonostante l'overall non altissimo perché solamente 84 è un giocatore straordinario anche qui almeno un giocatore del Napoli nella nostra All Stars ci voleva solo FIFA non se non se ne so accorti che il Napoli è una corazzata quest'anno ma vabbè dunque intanto curiosissimo parentesi di vedere il prossimo anno gli overall del Napoli nel prossimo gioco direttore di Karts e non solo e non solo scopriremo tante cose specialmente se il Napoli dovesse appunto stravice questo scudetto con parecchi punti di vantaggio e Usimen dovesse prendersi la classifica cannonieri Sergio è un po' fuori dal gioco sta attenzione però potrei averlo ispirato ma perché non tirate perché ma non ha senso ma potevamo chiudere ma potevamo chiudere eh sì buonanotte al secchio a Di Bala comunque io ripeto sarebbe stata infinitamente più divertente una cosa di questo tipo piuttosto che la Nations League il problema è che nel calcio di oggi un All-Star Game applicato al calcio sarebbe motivo di polemiche interminabili per 50 anni ma vi immaginate tipo l'All-Star Game con che ne so Di Bala o Usimen o Di Maria che si fanno male durante l'All-Star Game apriti cielo polemiche per 20 anni filati sono tutti in giornale ahhh per cui no non è purtroppo fattibile in questo contesto però sarebbe sarebbe bello comunque Torreira farci in tiro Torreira niente devono entrare in porta col pallone guarda che roba no Zaniolo si è si è divorato si è divorato l'uno a uno si è divo c'erano c'erano almeno almeno tre momenti puliti per spaccare la porta che la CPU non ha sfruttato almeno dovrà essere oggi ma fuori entra Lautaro entra Lautaro niente non riescono non riescono a mettersi con lezione di vice sprecone questo questo gruppo turco sprecone serie A in completo possesso della situazione di balla una finta inutile mamma mia comunque la balla mi sembra tipo mezza entrata comunque ma non l'ha toccata Muslera scusate ci frega una roba pure nello star game vabbè sono rimasto un po un po poplesso devo dire 80 unesimo la partita sembra in cassaforte ma lo dicevamo anche nella scorsa sfida quella con la Ligane quindi non lo voglio dire troppo forte decisamente no comunque partita partita abbastanza equilibrata abbastanza equilibrata perché sembrava che potesse essere una mattanza in realtà Ciro Ciro niente poteva raddoppiare in realtà questo 1-0 è anche poco rispetto alle occasioni perché sia la Serie A sia la Super League potevano potevano fare di più potevano fare di più fosse finita tipo 3-2 non sarebbe stato uno scandalo affatto ma per adesso per adesso diciamo che la vittoria è meritatamente diciamo della Serie A per cui una vittoria anche per la Serie A finalmente la prossima volta vi porto campionato portoghese contro campionato spagnolo e poi se volete o ripetiamo un'altra Serie A con un'altra che potremmo potremmo operare la Serie A contro la Liga e poi appunto voglio portarvi anche il campionatone per vedere cosa accade perché secondo me potrebbe essere oggetto di più di qualche soddisfazione poi raga a parte questi All Star che ho in mente ci sono anche tante altre cosine che vorrei fare è già tutto scritto abbiamo solamente noi più più prende il via sto canale e io più inizio a proporvi cose per cui eventualmente se conoscete altri falchisti che non sanno ancora di questo canale fateglielo conoscere e pian piano realizzeremo anche molte delle vostre idee quindi proponete proponete che qua è il luogo che per certi versi abbiamo sempre sognato quello in cui poter fare quello che ci pare come ci pare quando ci pare per cui insomma divertiamoci ragazzi io vi mando un abbraccio noi ci vediamo alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.